Siamo alla fase 1 di installazione dei sensori sul ponte del Dino La soluzione che abbiamo sviluppato utilizza una rete di sensori intelligenti di semplice installazione che attraverso algoritmi di machine learning modellano la risposta vibrazionale della struttura Il modello correla questa firma vibrazionale caratteristica con centinaia di parametri esterni come intensità e livello del traffico temperatura, condizioni climatiche al fine di apprendere la normale risposta dell'infrastruttura alle perturbazioni esterne Eventuali alterazioni strutturali anche minime vengono quindi individuate e segnalate in tempo reale e in maniera automatica ottimizzando la necessità di controlli mirati più approfonditi Questo è il sensore installato nella comune scatola di derivazione IP68 e verrà disposto uno circa ogni 16 metri sul cordolo del ponte Tutti i sensori sono collegati da un cavo che li alimenta e permette la comunicazione dei dati che avviene in tempo reale 24 ore su 24 Queste caratteristiche di economicità e semplicità di funzionamento fanno di Synthetic Smart Bridge la soluzione ideale per la creazione di una rete diffusa di primo livello per il controllo e la mappatura di tutta la rete stradale Grazie a tutti i nostri spettatori